Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPI-Li. In FIPI-Li è chiusa l'uscita di Montelupo-Fiorentino provenendo da Firenze fino al 16 settembre. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sull'SP12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Inoltre 9 treni regionali veloci stanno effettuando fermate anche a Empoli. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Chiudiamo con il traffico ferroviario. Sulla linea Bologna-Prato il traffico sarà sospeso tra Prato e Pianoro fino a lunedì 2 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale. Muoversi Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!